Giancarlo Franco, segretario generale della Confsal Vigili del Fuoco, sindacato che è giunto al quarto congresso nazionale, quindi abbastanza giovane magari rispetto ai confederali, ma già abbastanza numeroso. Sì, abbastanza numeroso, è una federazione autonoma che non ha logiche partitiche, neanche ideologie, ma pensa soltanto concretamente a portare a casa i risultati. E questo io ritengo che sia il valore principale di un'organizzazione sindacale, perché avere una destra di partito poi significa non essere liberi. Noi invece siamo liberi e l'unico interesse che abbiamo è quello chiaramente di valorizzare la categoria. Primo obiettivo per i Vigili del Fuoco, adeguamento salariale o cos'altro? Sì, il primo obiettivo che ci siamo posti all'interno della discussione è chiaramente l'equiparazione agli altri corpi dello Stato. E dal 1941, da quando è nato il Corpo Nazionale, che attendiamo questa equiparazione, credo che abbiamo atteso anche troppo. È stato presente con noi il sottosegretario, il capo di partimento e il capo del Corpo. Abbiamo snocciolato la questione e ci auguriamo che nella imminente legge di bilancio ci possano essere le risorse per chiudere definitivamente questa storia. Quali i problemi del vostro corpo in Sicilia? I problemi del nostro corpo in Sicilia sono legati a diversi aspetti. In primo luogo, da qualche anno a questa parte, sono divenuti un po' più con riguardo all'aspetto salariale, perché aspettiamo ancora la retribuzione della campagna IB, quindi della stagione estiva, che viene attivata attraverso le convenzioni tra il Dipartimento e la Regione Sicilia, della Boschia del 2017 e del 2018. Quindi, considerato che siamo alle porte del 2019, riteniamo questo ritardo oramai non più accettabile, perché noi la nostra opera la prestiamo con estrema puntualità e da rappresentante dei lavoratori crederemmo che anche l'amministrazione rispondesse con altrettanta puntualità. Abbiamo anche qualche problema legato alle carenze di organico, però sembrerebbe che con l'ultima circola di mobilità, che è proprio uscita ieri, la Regione Sicilia abbia avuto un po' di attenzione rispetto al passato e avremo un ripianamento, quando meno, nella figura di vigili dell'organico. Rimangono quelle nelle figure apicali, quindi nelle qualifiche di caposquadra e caporeparto, però stiamo lavorando e auspicchiamo che anche questo possa essere sanato nel più breve tempo possibile. Una provincia che da sempre ha dato tanto a questo corpo? Come provincia siamo una grossa provincia che ha dato tanti uomini al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e sta dando ancora tanto. Il comando di Trapani è un comando importante, abbiamo due aeroporti, tra cui uno a Pantelleria con delle problematiche particolari, però proprio la circolare che è uscita ieri sulla mobilità dei vigili permanenti ci permetterà di far aumentare il grado di sicurezza alla collettività perché finalmente il Ministero ci riconosce un elevato numero di vigili per poter consentire il soccorso tecnico urgente in modo idoneo per la popolazione.